Attesi più di 4.000 persone questa sera al provinciale per i 32esimi di Coppa Italia Serie D tra Trapani e San Cataldese. La società nei giorni scorsi ha comunicato i prezzi popolari in occasione di questo match. In tal senso la biglietteria dello stadio rimarrà aperta fino a 5 minuti prima dell'inizio del match, fissato alle 20.30. Mister Alfio Torrisi, intervenuto come ospite a Sport Sud lunedì, ha presentato l'avversario che Granata incontreranno nuovamente in campionato domenica al Valentino Mazzola. Questa è una squadra che non ha riserve, quindi sicuramente giocherà chi non ha giocato domenica, cercheremo di dare l'infa a questa squadra con forze fresche, però chi andrà in campo è un giocatore del Trapani, il Trapani ha 28 titolari che dovrebbero aver fatto in tutte le squadre e quindi scenderà una formazione competitiva con un unico obiettivo, quello di passare il turno, di andare avanti, è una competizione ufficiale, si prevede tanta gente allo stadio e quindi siamo ancora una volta chiamati ad una grande prova, una grande prestazione per cercare di raggiungere anche questo obiettivo, mini obiettivo che è quello del passaggio del turno.